gentili telespettatori buona giornata il diktat o meglio l'ordine del governo ai suoi è negare restrizioni in arrivo adesso vediamo ma ci saranno zone rosse lockdown per tutti gli italiani obbligo del vaccino no adesso no no per adesso no poi vediamo ecco questo è l'atteggiamento del governo sminuire dire di no negare anche se i piani li abbiamo visti in questi giorni le diverse prospettive dal lockdown per tutti sotto natale o nei primi giorni di gennaio o il vaccino obbligatorio o il super green pass anche per andare a lavorare sono tutti i piani che sono già sul tavolo che probabilmente hanno già un iter se superiamo questa soglia parte questo se superiamo quest'altra soglia parte quell'altro ci sono questi piani che si susseguono per gravità si arriva a una situazione e scatta il piano che è già pronto sul tavolo di draghi ma l'importante è negare dire che non è vero perché non serve dicono cosa lo diciamo a fare solo creiamo confusione gente che si arrabbia noi neghiamo poi quando c'è da fare si dice da domani è così punto e basta ma è appunto l'ordine dire no a restrizioni e chiusure dice no per ora no dopo vediamo e come il bambino mi compri il gelato dopo al ritorno a poi quel ritorno non c'è mai di solito no bene il governo procede a tentoni un po come faceva il giuseppi il giuseppi dice aspettiamo se salgono i contagi io faccio ecco il inseguire la pandemia non precedere bene crescono i contagi il tasso di positività i ricoveri e la presidenza del consiglio spiega un retroscena sul corriere della sera si segue con attenzione ovviamente la curva epidemiologica e l'idea prevalente è che sia ancora troppo presto per dare un bilancio e trarre conclusioni quindi il governo dice troppo presto per trarre conclusioni anche perché siamo nel pieno delle spese natalizie ecco l'idea è far spendere gli italiani i soldi far girare l'economia perché al governo interessa chiudere l'anno con quel più 6,3 per cento per dire il governo dei migliori ha fatto più 6,3 senza dire che l'anno prima si è fatto tra meno 8 e meno 9 che questo è solo un rimbalzo tecnico no il governo dei migliori vuole vuole intestarsi un dato eccezionale ma decontestualizzato perché voi se lo prendete solo così dice più 6 grandissimo più 6 dopo un meno 9 ha un rimbalzo tecnico avete capito cosa significa decontestualizzare un dato bene sia draghi che roberto speranza ministro della salute sono preoccupati per l'indice di contagio rt che per la prima volta in un mese intanto scende dall 1,2 all'1,18 intanto la il tasso rt significa superiore all'1 significa che la pandemia è in espansione se il tasso rt è sotto l'uno zero virgola qualcosa vuol dire che la pandemia è in regressione in questo caso siamo in espansione ecco se dovesse però salire oltre l'uno virgola due che ci vuole un attimo tra l'uno virgola 18 l'uno virgola due non è nulla allora potrebbero diverse regioni andare in zona gialla alcuna in arancione forse in rosso beh poi se si dovesse arrivare a 30 mila contagi si introdurrebbero nuove restrizioni si parla dell'estensione del green pass al trasporto pubblico locale al super green pass anche per andare magari al lavoro quindi verrebbe cancellato completamente l'utilizzo del tampone per andare a lavorare per andare sui mezzi pubblici praticamente se non hai il vaccino non puoi fare non puoi fare più niente ma il punto vero sono le chiusure dice il corriere della sera che appunto prende le dichiarazioni di un esponente di governo quindi non di un semplice parlamentare ma di uno che è nel governo cosa vuol dire nel governo il governo è formato dal premier dai 18 ministri e dei sottosegretari si arriva circa a 60 persone quello è il governo quando si parla del governo quindi una di queste persone canta al corriere della sera canta le cose beh nessuno conferma l'ipotesi di limitare bar e ristoranti dice quello che canta per il periodo di natale dice restringere la libertà di spostamento fermare la stagione sciistica appena iniziata nessuno lo vuole fare le ipotesi più allarmistiche però non possono essere smentite o accantonate semmai è l'ordine della comunicazione vanno bollate come premature ma misure ulteriori come l'imposizione dell'obbligo vaccinale da altre categorie o a tutti gli italiani sono sempre presenti sulla scrivania di mario draghi e dei ministri il cauto ottimismo delle dichiarazioni in pubblico dunque nelle segrete stanze lascia spazio a un diverso realismo cioè in pubblico si dice ma no ma restrizioni ma va e poi in realtà i piani sono tutti lì pronti sul tavolo di draghi non nel caso si arrivasse alla fatidica soglia dei 30 mila contagi o l'rt sopra 1,2 non è che il governo si riunisce per decidere qualcosa è già deciso è già lì il piano hanno già deciso che quando si arriva a delle delle soglie limite partono questi piani ma il l'ordine è non dire nulla dire che negare 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 poi quando c'è da fare il piano lo si dice all'improvviso no per evitare problemi manifestazioni i partiti che poi magari si nervosiscono ecco perché draghi e speranza hanno queste ipotesi sul tavolo magari realmente magari i ministri dicono beh sono delle ipotesi ma speranza e draghi probabilmente hanno già deciso come attuare quando attuare questi piani ma non l'hanno comunicato ai partiti ai partiti hanno detto ai ministri no beh sono delle ipotesi poi vediamo sono qua delle ipotesi sono scritte ma niente di niente di niente di che ecco questo è il diktak del governo negare 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 poi se ci sono da fare restrizioni dirlo nel momento in un momento prima qualche ora prima qualche un giorno prima da domani partono queste cose arrivederci grazie saluti e baci arrivederci a tutti e ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci